C'è poco da girarci intorno, comunque lo si voglia considerare, Maurizio Costanzo è stato uno dei grandi protagonisti dell'Italia della seconda metà del Novecento. In lui consistevano una cultura alta e una cultura bassa in una sorta di bivalenza, un alternare impegno e disimpegno in maniera non casuale ma totalmente convinta, quasi fosse un marchio di fabbrica. Nonostante gli inizi sulla carta stampata, Paese Sera e anche il nostro Corriere Mercantile, fu ovviamente la televisione il suo grande cavallo di battaglia. C'è un'immagine che non si può dimenticare, una finestra finta che chiudeva all'inizio e riapriva la fine di una trasmissione, come se tutto quello che si sarebbe detto in quell'ora del lunedì sera dovesse rimanere dentro le quattro mura di una stanza immaginaria. Era il 1976 e con bontà loro la tv non sarebbe mai più stata la stessa. Nasceva il talk show che avrebbe rivoluzionato, nel bene e nel male, nella misura e negli eccessi, la storia del piccolo schermo. Un format che sposò per tutta la vita fino alla sua creatura più riuscita, il Maurizio Costanzo Show dalle più di 4.400 puntate, trampolino di lancio per una marea di personaggi che salirono da totali sconosciuti sul palcoscenico del Teatro Parioli di Roma per uscirne da protagonisti, Iacchetti, Mastrandrea, Brignano, Sgarbi, Bergonzoni, Mughini e decine di altri ancora. Ma sarebbe limitativo rinchiudere Maurizio Costanzo all'interno del tubo catodico. Se parliamo di teatro, lui c'era. Se parliamo di musica, lui c'era. Se parliamo di cinema, lui c'era. Fu autore di opere teatrali di grande successo, di canzoni che sono rimaste nella storia, come se telefonando di Mina scritte insieme a Degno Moricone, e sceneggiatore di film come una giornata particolare. Certo non sono mancati gli scivoloni come il coinvolgimento nella loggia massonica P2, inizialmente negata o poi finalmente ammessa, ma va anche sottolineato il suo impegno contro la mafia che lo portò a essere vittima di un attentato che fallì per un soffio. Per finire un'altra cosa che lo lega Genova, un personaggio goffo, impacciato e straordinariamente timido, che inventò per un attore che fece esordire a quelli della domenica dopo averlo visto recitare in un cabaret. Anche qui, per Paolo Villaggio e Fracchia, un trampolino formidario.